L'idea è frutto di indagine mediatica. Ci siamo accorti che c'era una richiesta, una volontà di trasformare le maschere snorkeling, non per forza di una ditta specifica, in maschere protettive per i medici. Per le loro caratteristiche, perché ovviamente coprono completamente la faccia, gli occhi, il naso e non soltanto la bocca, quindi per evitare chiaramente che in ambienti ostili i medici possano operare senza il pericolo di essere infettati. Quello che abbiamo ideato noi è, che si chiama appunto Progetto Antonello, ovviamente dando il nome a Antonello da Messina, che è uno ovviamente dei nostri personaggi storici e artistici più conosciuto nel territorio, è quello di trasformare una maschera appunto, una maschera da snorkeling, una maschera protettiva tramite l'ausilio di un nuovo componente innestato sulla maschera stessa. Questo nuovo componente è un materiale, fatto in un materiale ottenuto tramite in action molding, quindi non fatto in stampa 3D. Quello che vedete nell'immagine è un prototipo in stampa 3D, ma già ringraziamo la ditta Plastitalia, Fiorallocchiello del nostro territorio, per essersi resa disponibile nella realizzazione in serie dell'Antonello, quindi un materiale stampato per iniezione che non ha purtroppo, per fortuna, le caratteristiche del materiale stampato in 3D, come il PLA, cioè la porosità che purtroppo potrebbe non impedire al virus ovviamente di infettare il soggetto. Quindi il componente come potete vedere dall'immagine è stato costruito e pensato per una realizzazione facile e per un intercambio, interscambio facile del filtro che viene alloggiato tramite una forma quadrata 5x5, filtro di FP2, FP3 e ovviamente intercambiabile.